Con la nuova manovra Renzi pare che le banche subiscano un ulteriore tartassamento, possiamo definirlo così per quanto riguarda le tassazioni? Non tutte le banche, le banche che sono state beneficiate dalla rivalutazione delle quote di possesso di Banche d'Italia. Quindi? Pagavano una tassazione fino a ieri del 12%, con la legge Renzi vanno al 26% di tassazione. E questo per la gente comune cosa comporta? Non cambia assolutamente niente. Bisognerebbe fare un ragionamento molto più ampio per far capire cosa è successo con la rivalutazione delle quote Banche d'Italia e far capire come effettivamente non tutte le banche, ma solo le banche socie di Banche d'Italia hanno ricevuto un aiuto importante che è servito sia a rafforzare il patrimonio, ma nello stesso tempo a creare qualche disuguaglianza sul mercato dei capitali. E per le banche di credito cooperativo come la vostra, ad esempio? Non cambia niente. Dovremo continuare a fare banca del territorio, a non avere aiuti, non li abbiamo mai avuti, ma questo è nella peculiarità delle banche. Quindi continueremo a fare la nostra missione di banche di credito cooperativo. Può servire ad aiutare l'economia di un paese come il nostro? Nel caso specifico, questo aumento di tassazione serve a finanziare i 6 miliardi che servivano per il taglio dell'IRPEF, i famosi 80 euro in busta paga. Quindi sicuramente può servire al paese. Cosa servirebbe veramente al paese? Calare il debito.